Parliamo di immagini. Immagini intendo foto, disegni, illustrazioni, insomma tutto ciò che ci sia di visivo statico, che non è testo, che possiamo utilizzare sui nostri supporti visivi per trasmettere un messaggio. L'unica cosa che non trattiamo in questa sezione sono i grafici, perché presentare i dati hanno un capitolo a parte dedicato solo a quello. La prima domanda è perché utilizzare le immagini nei supporti visivi? E la spiegazione è estremamente chiara quanto scientifica. Entriamo in come funziona il nostro cervello. Vi mostro una slide, questa. Bene, se voi mostrate questa slide al vostro pubblico e dopo un paio di giorni andate a controllare il tasso di memorizzazione, cioè quanti ricordano che cosa hanno visto, il risultato è questo.